Moongrave Fane. Proviamo a fare questa Dungeon? Mai fatto credo. Non lo ricordo proprio. Infatti, eccolo qui. Questo è l'insanità, Grundwulf. Non puoi vedere che questi holofangs non hanno niente, ma che holofangs promisano? I dragons sono qui, Reynald. Il mondo finirà in fuoco prima il tuo impero fabbato arriva. Se tu non acti, io lo dirò. Il Drovirer ha chiuso, old batte. Non mi preoccupare di nuovo. Ok, guarda di così. Siamo in tre a Fast Dungeon. E andiamo in là. Vabbè, ce la possiamo fare con questi asolti. Andiamo dentro così dai. Non è mai fatta, quindi mi fido di queste arti che sono chiaramente il livello più affine. E queste sono distanze scalabili, che è una delle forze del gioco. del gioco. Che figata sto riddle. Vabbè, è il classico meccanismo a pressione che apre la porta. E' appena caduto il microfono. Lo restringiamo. Ok, e l'altro rumore era il controller. Ecco, è arrivato un altro per giocare così. Almeno siamo in quattro. Uh, che figata sto boss. Vediamolo, vediamolo. Uh, no, no. Ok, non ho l'idea di come si faccia sto boss. Infatti sto whipato malissimo. Ok, teniamo qui. Cerchiamo di tirarlo di giù. Ok, tutto così ucciso qua. Partiamolo via, partiamo via. Oh, no. Cristo. Maledizione, cazzo. Un 15%. Finito. E si prosegue. Andiamo ad di così. Ok. Ok, teniamolo, teniamolo, teniamolo. Dai, teniamolo. Dai, devo tenermi giù su da solo, porco due. Ok, blodicchio. Dai, buttiamolo giù. Andiamo un po' più avanti. Andiamo avanti pure qui. Eh, è un bel gruppo, dai. Andiamo. Il dragon lies beneath that temple. I can smell it's blood on the air. Push through. Allora, è lungo sto lanciando. E' proprio bellissimo lancio. Ok, vieni qua, sì. Dai, dai, così, così. Dai, uno. Andiamo, così, andiamo. Dai, ancora così. Andiamo così. Ok, così, così, andiamo. Ok, dai, su. Questo è un posto. L'ha introdotto. Però non è l'ultimo posto. Ti ho, te l'ora è finita. Ce ne sono ancora, però. Oh, lungo, lungo questo. Andiamo di così. Andiamo così, dai. Veloce, 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 mi perdo tutto. Andiamo così. Ok, così, così. Dai, in giù, così. Ok, mi sistema meglio. Ok. Sta, sta in giro, sta a durare. Handle the heads. Ok. Capito? Ok. Siamo due wipeati a caso. E forse è il caso che gli altri non muoiono. Perché il tizio non recca? Eh, dai, cazzo. Dai, io la tengo qua. Allora, io mi devo tenere lui, giusto? Allora, devo tenerlo così. Io la sto tenendo qua a voi. Ok, sì. Sì, non me la lì qua. Mi la lì qua, mi la lì qua, poi da queste pozze, qualsiasi pozze siano. Ok, andiamo, andiamo. Oh, ragazzi, io me la sto tenendo lì, giusto? No, e te? Vuoi che cazzo sto a fare? No, no, muoio, muoio. Grazie. Ok. Sono ancora qui. Dai. Ok, 92. Teni al 100. Guarda, che tancata da professionista che ho fatto oggi. Ok, basta che mi dici quello che devo tancare. Andiamo così dentro. Putta tutti giù. Andiamo avanti così. Andiamo così. Ok, vado giù con questo. Vai giù con questo. Vai giù così, prendi, prendi, vieni qua, vieni qua, vieni qua. L'ho fatto? Dai cazzo, finita. Bellissima così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti